Passiamo adesso alla Serie D perché, come vi dicevo in apertura, teoricamente il campionato è fermo per consentire esattamente di recuperare le sfide che mancano, quelle rinviate a causa delle positività al Covid-19. Non solo, perché ieri invece si è tenuta per esempio il secondo tempo di Mariglianese Nardò, gara interrotta dopo i primi 45 minuti sul risultato di 2-0 per i campani a causa dell'infortunio occorso all'arbitro, 29esimo turno in questo caso. E il Nardò ieri nei secondi 45 minuti ha addirittura ribaltato la gara 3-2 il finale, una gara davvero ricchissima di emozioni, seppur concentrate in due giornate differenti, ma ci sono state, oltre ad alcuni altri recuperi, ci sono stati anche diversi anticipi rispetto al turno infrasettimanale che invece si disputerà mercoledì prossimo. Ci sono anche qui delle gare molto importanti, le vediamo assieme con l'aiuto della grafica, come vedete i recuperi erano Mariglianese Nardò 2-3, San Giorgio Biceglie, gara importantissima per la parte bassa della graduatoria, terminata però 0-0. E poi gli anticipi della 35esima giornata invece sono stati Nocerina, Team Altamura con il successo della formazione murgiana, importantissimo ieri contro la Nocerina. E poi Francavilla e Insini, Virtus Matino, vittoria della Virtus Matino che prova a tenere accesa davvero una fiammella di speranza per la salvezza, almeno per i play-out. Sorrento-Casertana 0-0, Molfetta-Gravina invece sfida valida in qualche modo un po' per la zona play-off, terminata 1-1. E allora vediamo un po' come cambia la classifica, diminuiscono quasi, si azzerano potremmo dire, o comunque diminuiscono moltissimo gli asterischi. Quindi classifica sempre più reale, Cerignola già promosso in Serie C, 78 punti. Francavilla e Insini 64, Bitonto 59, Fasano 56, Nocerina 52 assieme al Gravina. Di fatto Nocerina e Gravina si contendono in qualche modo la postazione play-off assieme alla Casertana con 51. Sorrento 49, Molfetta 47, Tim Altamura 44 assieme al Nola, Brindisi 43, Lavello 42, Mariglianese e Casarano 40, Nardò 38 assieme al Rotonda, San Giorgio 36 e poi Biceglie 33, chiude la Virtus Matino con 30 punti. E allora andiamoci a guardare proprio i gol e anche i match, insomma, che anche quelli che non hanno visto purtroppo gol, andiamoceli a guardare nei prossimi servizi. Un punto buono per la corsa play-off del Gravina, meno per quella intrapresa dal Molfetta che ha strizzato l'occhio agli spareggi promozione. 1-1 il finale al Paolo Poli che ha accolto un bel derby, ma è banale e con tanti spunti interessanti, come interessanti sono fino a questo momento i percorsi di entrambe le squadre. Il 3-5-2 di Bartoli contro il 4-4-2 del tandem su Marragone, l'ex Gionai con Kordic per il Molfetta in avanti con Monaco e Guadalupe in cabina di regia. Dall'altro lato la verve di Chacon alle spalle di Krstersky in avanti con Tuninetti e Macario in cabina di regia. Capitan Chiaradia spostato sulla linea di difesa a sinistra. Partono forte i padroni di casa e Giambuzzi a spaventare Mascolo con un tiro di poco a lato, protagonista invece con i pugni l'estremo difensore ospite sul tiro dalla distanza di Gionai. Ci mette un po' il Gravina a carburare dell'esterno Tommassone a salire in cattedra con due conclusioni. La prima a raso terra è neutralizzata in due tempi da viola, la seconda con un diagonale di un soffio sul fondo dopo un assist di Tuninetti. La replica di casa arriva con il cross pennellato di Giambuzzi per la testa di Panebianco che coglie la traversa a Mascolo battuto. La gara resta viva e molto bella con continue accelerazioni come quella di Chiaradia che ha tu per tu con viola a calcia con la risposta in corner dell'estremo difensore di casa. I Murgiani si complicano però la vita in uscita poco oltre la mezz'ora e il Molfetta costruisce con Kordic l'azione giusta per la corrente Gionai. Freddo a battere Mascolo per il classico gol dell'ex. Il Gravina ci prova con Krstevski nel finale di prima frazione, palla deviata in corner dalla difesa di casa. Strigliata allora negli spogliatoi del tandem su Marragone. Subito in campo ci finisce Diop al posto di uno spento Krstevski. Il solito Tommassone di testa impegna viola con un colpo ravvicinato. Avvicinato sempre in numero 7 ospite ci prova con un tiro cross che finisce tra le braccia dell'estremo difensore di casa. Il Gravina preme sull'acceleratore ma sbaglia nuovamente in uscita con Tuninetti che si fa soffiare palla da Gionai. E tutto solo davanti a Mascolo calcia, botta sicura la sfera però si stampa sul palo. Ancora Molfetta questa volta con Kordic lanciato con il contagiri da Gionai. Tiro finale deviato da Gigli e poi bloccato da Mascolo. Ma nel finale arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Azione da rimessa laterale con palla scodellata in area dove Diop viene atterrato da Lobby Anize. A pochi passi da Viola per il direttore di gare penalty. Anche se il Molfetta protesta a lungo per una precedente spinta dello stesso Diop ai danni del difensore di casa. Nel dischetto è freddissimo l'attaccante del Gravina che pareggia i conti e sigla il suo 14esimo gol stagionale. Terzo marcatore del girone. Il pari nel finale regala il 52esimo punto stagionale ai Murgiani che agganciano nuovamente la noncerina e provano a costruire nelle ultime tre gare una partecipazione ai playoff che sarebbe di grande prestigio. Al vicino domenica prossima sarà di scena il San Giorgio. Per il Molfetta invece chiede ancora un ultimo sforzo i suoi per blindare la categoria in un campionato ancora molto aperto. Soprattutto nella parte bassa domenica il Super Derby a Biceglie. Tre punti d'oro, una vittoria che vale decisamente una notevole fetta di conferma della categoria e avvicina ancora di più la quota salvezza. Che team Altamura a nocera inferiore espugna il San Francesco, batte 2-1 la nocerina in trasferta e balza a quota 44 in classifica. Successo fondamentale dopo due sconfitte consecutive nel percorso agonistico dei Murgiani a cui conti alla mano. Basterebbe un'altra vittoria nelle ultime tre gare di questo campionato per prenotare con certezza un posto anche per la prossima serie D. Padroni di casa, pericolosi in avvio, conclusione insidiosa di Dammacco, ottima replica con il piede di spina. Pugliesi con Abreu e Tedesco di punta. Quest'ultimo offre una pala interessante a Serra che però non la sfrutta a dovere. Il team Altamura mette però la freccia alla mezz'ora al termine di un'azione eccellente. Abreu è bravo a tenerla in campo, tazza firma l'assi, sbaraggi, deposita la sfera nel sacco da due passi. Ospiti in vantaggio al San Francesco, padroni di casa però che la pareggiano dopo tre minuti. Il direttore di gara giudica da rigore questo tocco in aria di Clemente. Spina respinge la conclusione dagli 11 metri di Dammacco ma nulla può. Sulla ribattuta, 1-1, equilibrio a metà gara. Ripresa, nocerina in evidenza sull'asse Palmieri-Talamo. Conclusione di quest'ultimo imprecisa. All'alba dell'ultimo quarto d'ora è ancora a rigore, questa volta per il team Altamura. Contatto tra il mio entrato Russotto e Abreu. Un altro mio entrato. Molinaro si prende la responsabilità di cacciare dal dischetto e non lascia scampo a Pitarresi. Esecuzione impeccabile. Nuovo vantaggio dei Murgiani. Il 2-1 resta in ghiaccio sino al triplice fischio per la gioia dei sostenitori biancorossi giunti a San Francesco. Domenica il programma della terz'ultima di campionato propone l'impegno casalingo contro il Nola. Vincere significherebbe per gli Altamurani. Centrale della Salvezza con due giornate di anticipo. Ma è una vittoria che ci ripaga per il lavoro quotidiano, per tutto quello che questi ragazzi riversano durante la settimana, per l'attaccamento della società che è sempre presente. Io mi sento di dedicare questa vittoria proprio ai dirigenti che non ci fanno mai mancare nulla e che sono di supporto a questa squadra. Anche oggi sono stati qui con noi, presenti, a spronare, ad incitare questi ragazzi. Penso che sia il giusto premio per tutti quelli che dai primi di agosto lavorano per questo obiettivo. Ricordiamo che questa squadra era partita sicuramente con altri obiettivi, però aveva avuto delle difficoltà perché i dirigenti nell'estate scorsa avevano palesato l'obiettivo di non andare più avanti. Poi ancora una volta per il bene di questa maglia hanno portato avanti questo progetto impiegandoci del tempo, del denaro e c'è da fare un grosso applauso. Noi gliela dedichiamo fino in fondo. Pareggio ricco di rimpianti e zona salvezza che resta lontana a tre lunghezze. Finisce senza reti la trasferta del Bisceglie sul campo del San Giorgio nel recupero della 33esima giornata. I nerazzurri del neotecnico Tisci creano diverse occasioni in zona gol ma non riescono ad incidere e ad agganciare in classifica proprio il team campano. Neroazzurri più grintosi fin dall'avvio. Al diciassettesimo il rassoterra dai 20 metri di Fucci è bloccato a terra da Bellarosa. L'estremo di casa sale in cattedra al venticinquesimo sventando in tuffo il piazzato mancino di Coria destinato sotto l'incrocio dei pali. Unico spunto del San Giorgio nella prima frazione al 31esimo con il tentativo dal limite di Varela neutralizzato dall'attento Martorell. Al 41esimo il Bisceglie va nuovamente vicino al vantaggio con il colpo di testa sotto misura di Urchigio su Assis di Coletti. Bellarosa con un colpo di Reni devia la sfera oltre la traversa. Un minuto più tardi ci prova Costa con una vola in diagonale che però termina fuori. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa il match è più equilibrato. Al quarto il mancino del nero azzurro Urchigio si spegne a lato. All'ottavo rispondono i padroni di casa con il colpo di testa di Cassese che non c'entra il bersaglio. Al decimo il vantaggio del San Giorgio sembra ormai cosa fatta ma il sinistro di Varela dal limite colpisce prima la traversa e poi rimbalza sulla linea senza avarcarla. Scampato il pericolo il bisceglie replica con la fulminia girata di Urchigio al diciottesimo. Bellarosa si rifugia in corner. Il match scorre senza sussulti fino al ventisettesimo quando il biscegliese San Domenico lascia partire un pregevole sinistro che coglie in pieno la traversa pareggiando il conto dei legni e lasciando la mare in bocca alla squadra di Tisci che esce dall'impianto campano con un solo punto. 1-0-0 che complica il cammino verso la permanenza in Serie D dei nero azzurri che torneranno in campo già mercoledì prossimo nel derby del Curlo contro il Fasano. 45 minuti da incorniciare per il Nardò che nel recupero del match di Marigliano sospeso all'intervallo lo scorso 26 marzo a causa dell'infortunio del direttore di gara rimonta il doppio svantaggio firmato da Esposito per i campani grazie alla doppietta di Puntoriere ed il sigillo finale di Mati Cristaldi che vale il gol vittoria salvezza diretta più vicina per i ragazzi di Mister De Cambia si parte dal primo minuto del secondo tempo e sono i campani che bussano subito alla porta di Petrarca proprio con Esposito poi Aracri in acrobazia palla sul fondo di poco Salentini che rispondono con Puntoriere che calcia da fuori prende solo le misure l'attaccante Granata che al 69esimo la porta la trova Mariglianese 2 Nardò 1 partita riaperta i campani si abbassano troppo cercando di difendere il risultato ma l'ottantesimo Puntoriere conferma la giornata di Grazia anticipando tutti i difensori sul traversone da sinistra parità degli uomini di De Cambia che non basta il Nardò vuole l'intera posta in palio e all'ottantasettesimo Cristaldi ribalta il parziale bravissimo ad anticipare in scivolata arrivò lì e 2-3 per i Salentini la Mariglianese nel finale prova l'arimbaggio ma è troppo tardi finisce così Nardò che può dunque inseguire il sogno salvezza diretta mercoledì 4 maggio c'è un altro scontro diretto sempre in terra campana Granata di scena a San Giorgio a Cremano è difficile effettivamente analizzare una partita dopo 45 minuti a questo livello dire che ci credevo è da ipocriti sicuramente ce la siamo venuti a giocare abbiamo cercato di provare delle situazioni anche perché è un'esperienza nuova non so quanti allenatori prima l'hanno provata e questa per me è la prima volta che provo un'esperienza del genere cioè riprendere 45 minuti che non è un recupero e si parte dallo 0-2 quindi è difficilissimo avevo chiesto ai ragazzi di dare il massimo avevamo 50 minuti, 45 minuti per recupero cercare di dare il massimo, di rimanere con la testa sempre in partita cercare di, se era possibile, di essere aggressivi non siamo neanche partiti tanto bene a dirlo il vero perché poi abbiamo subito una ripartenza e quindi lì ho temuto che probabilmente non ero stato chiaro invece loro sono stati poi bravi ad avere pazienza perché un paio di volte abbiamo calciato lungo cosa che non dovevamo fare invece quando siamo stati bravi a muovere la palla cercare di, il pertugio giusto sicuramente poi siamo stati, prima del gol abbiamo avuto già un'altra occasione queste palle che passavano quasi tutta lungo la linea della porta poi bravi, veramente bravi è una grande felicità ma una grande rabbia ti lascia perché mostrare per 40 minuti questa attenzione e questa qualità anche nelle giocate poi venire fuori, in certe partite con zero punti avendo partite tra le mani adesso ricordando le ultime tre partite abbiamo fatto 10 gol ne abbiamo subito tanti cioè fa rabbia c'è tantissima felicità perché oggi le prospettive sono diverse rispetto a quelle delle 15 e quindi però c'è tanta felicità un pochettino di rabbia ci sta Alfittipaldi nell'anticipo della 35esima giornata in programma mercoledì prossimo il Francavilla in inferiorità numerica per quasi tutto e nel secondo tempo subisce la rimonta del fanalino di coda Virtus Matino che si è imposto per 2 a 3 l'avvio è su ritmi lenti al minuto 8 sui sviluppi di un angolo pallatesi in area salentina ma nessuno del rosso blu arriva all'appuntamento la prima vera occasione del match capita al 14esimo ancora sul calcio d'angolo per i padroni di casa ed è sulla testa di Di Runza che fallisce il bersaglio di pochissimi i Lucani si rendono ancora pericolosi in due circostanze tra il 21esimo e il 22esimo sempre con Olè che nella prima su sponda di ganci su cross di cristallo trova un grande intervento di Leuci e sul proseguo impatta di testa di poco alto i sindici tengono costantemente in mano il pallino del gioco ma non riescono a sbloccare il risultato al 31esimo grande occasione per Croce che lanciato in profondità si fa fermare dal portiere in uscita due minuti più tardi è la volta di Petrucetti ma il suo tentativo dalla distanza sorvola di poco l'attraverso al 41esimo la svolta fallo in area su Petrucetti il direttore di gara decreta la massima punizione di cui si incarica Melillo che non sbaglia e si va all'intervallo la ripresa comincia al piccolo trotto al sesto bella iniziativa di Morra che si libera e conclude ma trova sulla sua strada un grande prisco al decimo lo stesso attaccante surpisce fallo da Ferrante ammonito pochi minuti prima che rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia gli ospiti approfittano immediatamente della superiore da numeri che al tredicesimo pervengono al pareggio ancora con Morra che insacca riprendendola la respinta del portiere sul tiro di Patronelli successivo a una pala lunga Ragno allora manda in campo Gentile e la mossa paga subito poiché al diciannovesimo grande azione di Ganci che prende palla e serve indagolare l'attaccante di un entrato che dal limite salta un uomo e lascia partire un tiro che carambola sul palo e finisce in rete al ventitresimo Lucani ancora in avanti dalla sinistra croce crossa per Melillo che trova l'opposizione del portiere e sulla respinta Ganci mette fuori Gli uomini di Brana non ci stanno e al trentunesimo boli da supponizione di Prete su cui Pisco si fa ancora trovare pronto ma due minuti dopo croce e tocca il pallone con una mano in aria per l'arbitro e calcio di rigore trasformato ancora da Morra che impatta nuovamente ma al quarantunesimo il matino completa la rimonta con il subentrato Ancora che calcia all'angolino da dentro l'aria sul traversone dalla destra Gli uomini di Ragno reagiscono subito e provocano un battere e batti in aria ma senza riuscire a concludere e successivamente cross di Melillo per la testa di Gentile che manca di poco lo specchio della porta al quarantaquattresimo ancora Melillo cade in aria ma l'arbitro lascia correre tra le proteste dei locali e l'ultimo sussurro dopo questa sconfitta il Francavilla resta fermo a quota 65 a più 5 sul bitonto il matino sale invece a 31 punti e continua a sperare di riagganciare il lettreno dei play-out Ed ho parlato all'inizio anche di una Coppa Italia direttanti davvero che sorride in qualche modo possiamo dire al Cerignola perché di fatto la formazione di Michele Pazienza proda in semifinale dunque andiamo a guardarci proprio che cosa è accaduto con la grafica Cerignola batte Cittanova ieri al Monterisi per 3 a 1 e vola in semifinale dove affronterà la Torres che è l'altra qualificata battuto dopo i calci di rigore lo Scandicci Caronnese Virtus Ciserano Bergamo 5 a 6 Bergamaschi in semifinale assieme al Follonica Gavorrano che invece ha battuto 2 a 0 l'Atletic Carpi e quindi andiamoci a guardare proprio i gol e ad ascoltare anche le voci dei protagonisti ieri Vince sempre il Cerignola vince anche in Coppa Italia di Serie D vince 3 a 1 al Monterisi contro il Cittanova rimediando ad una situazione di momentaneo svantaggio e conquista così il pass per le semifidali della competizione nazionale altra gioia dunque per gli Ofantini a distanza di 6 giorni dalla promozione in Serie C ottenuta con ben 4 giornate di anticipo Passio De Honor dei Calabresi al momento dell'ingresso in campo per la regina del Girone H pazienza come annunciato nella conferenza stampa prepartita rivoluziona la formazione di partenza tridente offensivo con Mincica, Ciccone e Palazzo trio di centrocampo formato da Giacomarro Maltese e dal match winner della sfida con il Bitonto Tascone Tricarico, titolare tra i pali davanti a lui Dorval, Silletti, Allegrini e Bitiello botta e risposta iniziale tra le due squadre ospiti in vantaggio dopo appena 7 minuti De Marco disegna il traversone Petrucci in sacca il gol dello 0-1 non si disunisce minimamente però il Cerignola che ci mette un minuto per pervenire al pareggio Palazzo su cross di Giacomarro trova la deviazione vincente sul secondo palo che ristabilisce immediatamente l'equilibrio partenza col botto al Monterissi è già 1-1 dopo meno di 10 minuti l'inizio è da fuochi d'artificio poi però scarseggiano le emozioni nel corso del primo tempo in chiusura di frazione ci prova Tascone per i padroni di casa tiro debole, Bruno neutralizza imprecisa invece la conclusione mancina di Ciccone su suggerimento di Dorvallo un acuto per parte insomma a metà gara ripressa decisamente più vivace Cerignola alla ricerca del gol qualificazione non lo trova Allegrini su corner di Ciccone dalla parte opposta sempre su azione nata da calcio d'angolo Bonano non trova l'impatto giusto poi di nuovo Cerignola Palazzo servito da Giacomarro va ad un passo dal bis personale poco dopo l'ora di gioco ultimo quarto d'ora Dorval va verso il centro Bruno anticipa con ottima scelta di tempo Mincica vuole evitare i rigori per giocarsi la qualificazione del Cerignola lo iodice non trova lo specchio su corner di Aschik un altro non è entrato il russo incide subito dialoga con Aschik e poi firma così il gol del sorpasso 2 a 1 per gli offantini ad un passo dalla semifinale che diventa realtà poco dopo non quando Malcore servito dallo iodice disegna per Aschik ma Bruno ci arriva per primo sì invece quando lo iodice inventa e Malcore proprio allo scadere trova il guizzo del definitivo 3 a 1 altro gol per il capocannoniere del Gironeacca vince ancora il Cerignola colleziona così il 33esimo risultato utile consecutivo in appuntamenti ufficiali che vola in semifinale dove affronterà la torre e si ingara secca da definire data e sede attraverso sorteggio la squadra di Michele Pazienza già promossa matematicamente in Serie C tornerà in campo mercoledì prossimo per sfidare in trasferta e rotonda nella quart'ultima di campionato la storia però come si sa è già stata scritta dai gialloblu era tra virgolette la festa continua c'è da fare dei grossi complimenti ai nostri ragazzi che non hanno abbassato minimamente l'attenzione dei complimenti anche al Città Nuova perché è un'ottima squadra fatta di giovani giovani importanti con un ottimo allenatore ed è stata una partita dura una partita vera e siamo riusciti nel finale a spuntarla sapevamo delle insidie della partita perché sapevamo che loro una buona squadra di gamba corre tanto fatta di giovani noi venivamo da voglio dire comunque settimana scorsa abbiamo vinto matematicamente il campionato il rischio era quello di abbassare un po' l'attenzione probabilmente lo schiaffo ricevuto subito ci ha un attimino svegliati e abbiamo risposto come al solito in maniera veamente e facciamo anche una brevissima incursione nel torneo di eccellenza oggi si disputava insomma uno spareggio diciamo tra quello tra Corato e Sava vince il Corato 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Nicolas Di Rito però purtroppo questo non basta per di fatto essere la migliore seconda squadra tra i due gironi di eccellenza perché il Sava all'andata aveva vinto 2-0 la sfida del Corato di questo pomeriggio si è disputata al Vito Curlo di Fasano e con insomma la gara di oggi di fatto si conclude il percorso sia del Corato che del Sava il Sava adesso potrà provare a sperare di accedere ai play-off nazionali ma si devono incastrare due combinazioni insomma abbastanza importanti intanto nella sfida tra Barletta e Martina il Martina deve vincere l'accesso diretto alla Serie D e il Barletta invece dovrà vincere contro il Salso Maggiore nella sfida che decreta la vincitrice della Coppa Italia nazionale di dilettanti nazionali dunque insomma c'è ancora un lungo percorso che attende di fatto i Tarantini da questo punto di vista con questo invece è davvero tutto per quel che riguarda risultati e classifiche che torna però in un'edizione speciale invece mercoledì perché ci sarà appunto da raccontarvi sia i playoff e quindi le gare insomma di playoff importanti proprio per le squadre pugliesi e sia il turno il 35esimo turno l'infrasettimanale di Serie D a me non resta invece che ricordarvi anche il palinsesto sportivo del lunedì con Telesveva a parte i Telesveva Sport come al solito in diretta ci sarà Super Mario Sport alle ore 15 per raccontare parlare in qualche modo anche di quello che è accaduto in Serie D e anche in eccellenza con lo spareggio tra Corato e Sava a sera invece ci sarà spazio per uno speciale Telesveva Sport che in qualche modo vi proporrà e vi racconterà ecco diciamo un po' quello che è accaduto al Bari che ha giocato e quello che invece accadrà alla Fidelisandria che dovrà giocare sabato prossimo il primo match di play out risultate classifiche torna mercoledì 22.45 come al solito restate con noi